Ragazzi, Rumble è un sito fenomenale. Io ieri ho solo fatto una live test di prova e mi è salita la monetizzazione del 300, questo è 100, 200, 300, 500%, con una live la monetizzazione mi è salita del 500% ragazzi. Quindi adesso ho capito perché su Rumble ci sono tutte le live, quindi questo sito è il sito più onesto del mondo, perché il suo SEO ha vinto il premio come miglior SEO del mondo, che adesso vi faccio vedere. Quindi questo è il SEO, si chiama Chris Pavlosky ed è un benefattore, ha solo 570 follower, cioè immaginate è come Tesla questo qua, però non è riconosciuto ancora dal mondo. Quindi stiamo parlando di un nuovo YouTube e questo qui ha vinto, non so quanti anni consecutivi, il miglior capo del mondo per come tratta i lavoratori nelle sue compagnie. E quindi lo scopo di Rumble è per avere la libertà di espressione, di creatività su internet, perché invece in questo momento sulle altre piattaforme c'è di meno questa. Vediamo se trovo proprio il link dedicato. Quindi Rumble permette una monetizzazione a tutti e quando fate i live sale la manetta e quindi altro che mille ore o 4.000 ore su YouTube, qua subito dovete aspettare solo di avere i 50 euro che poi potete guadagnare e mettere su PayPal. Quindi italiani, perché comunque ho visto non ci sono italiani, ok adesso stanno dicendo di fare tutti i video in inglese su Rumble, perché gli altri, ma se iniziamo a fare gli scambi su Telegram fra di noi, perché sembra proprio il periodo di iscritto ricambio di YouTube questo, che magari c'è qualche FabiJ adesso che si inizia a caricare, magari fra 2-3 anni c'è un milione di iscritti. Quindi questo qui è un nuovo fenomenale sito che si chiama Rumble dove c'è la libertà praticamente di creare qualsiasi tipo di contenuti e tutti i monetizzati. Quindi quando fate i live, quindi lascio il mio link referral perché premia i referral Rumble e quindi ci vediamo al prossimo video. Ciao!